salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con quantum break siamo al punto di svolta 3 sofia amaral martinec vediamo quale sarà la nostra decisione che cresce dentro di me l'ho combattuta per sei lunghi anni la dottoressa amaral stava lavorando a una cura per la sindrome da cronum era l'unica in grado di sviluppare il trattamento che poteva arginare la mia malattia paul e jack me l'ha portata via ora come cazzo è possibile martin dimmi come hanno fatto a robirla paul non cedere alla malattia sono dalla tua parte calma battuto l'hanno presa senza sofia non c'è modo di trovare una cura abbiamo fatto il possibile ma nella monarca ci sono forze che tramano contro di te per me burke è solo la punta dell'iceberg qualcuno deve aver aiutato joyce signore abbiamo il portatile della dottoressa amaral è già pronto se vuole dare un'occhiata sì vado subito ok come sempre ci vediamo le nostre anteprime per poter fare una scelta non dico ponderata perché comunque non è che sappiamo bene cosa succede analizzare i valori di sofia se ha ragione la frattura si sta intensificando più velocemente del previsto tu conosci il futuro la dottoressa no l'arca non è ancora pronta per essere attivata ma lei vuole convincerti a rivedere la tabella di marcia perché per indurti ad affrettare i tempi e commettere un errore potrebbe persino essere d'accordo con i traditori impossibile e puoi basare l'intero piano su questo io spippolo scongiuro rimanda l'attivazione lasciami risolvere il problema prima che ci sfuga completamente di mano allora aspettate perché qui palo permettendo dovevo restare qui ma qualcuno ha diffuso un falso rapporto mi hanno tirato nei tunnel per distrarmi come ti ho detto qualcuno trama contro di te sapete chi era la radio ci stiamo ancora lavorando momento ma c'è anche questo palco da studiare eh sì però prima spippolo anche qui ho visto il video del tuo discorso volevano colpire te te l'avevo detto la situazione è compromessa qualcuno nella monarch trama contro di noi aspetta vado al portatile lo sole l'attentato è fallito le sto facendo fare su e giù ma per fortuna come pensi di procedere eh vediamo ah già partiamo subito con la scelta possibile che non ci sia nient'altro da guardare vabbè secondo me si è possibile quindi andiamo qualcuno stava cospirando contro di me una persona molto vicina martinez sofia amara potevo fidarmi soltanto di uno di loro tieni premuto per visualizzare amaral o patch vediamo voglio che venga arrestato immediatamente signore ho delle informazioni su martinez per anni avevo seguito i consigli di martin cominciavo a chiedermi se non fosse stato un errore io mi fido di sofia non mi ha mai tradito io continuo a non fidarmi di lei da come guardava la contromisura credo l'abbia già vista e sappia come funziona le ricerche di sofia mi avevano salvato la vita non esiste lealtà più profonda ok vediamo l'altra scelta ok dottoressa è ora di aggiustare la macchina ho detto che ci proverò le prove giocavano sfavori di sofia non potevo ignorarle nonostante quello che c'era stato fra noi e sapeva che non puoi andare avanti senza quel trattamento quindi le ha rubate sapeva troppo si era schierata contro di me avrebbe scatenato danni inimmaginabili è diciamo che abbiamo visto due visioni che effettivamente non è facile scegliere diciamo se andiamo con la prima quella di la scelta amaral questo viene arrestato però c'è da dire che effettivamente si tutto sembra si vada a riscontrare anche nel rapporto tra amaral e noi perché se lui sceglie la amaral abbiamo visto che c'era dissapore tra jack e la dottoressa che a quanto pare non ci avrebbe aiutato forse mentre d'altro canto se scegliamo etch forse la dottoressa si sente tra virgolette tradita abbandonata e ci aiuta anche se poi successivamente o prima successivamente viene arrestata quindi la scelta che forse farei è quello di scegliere martin etch perché perché io faccio sempre in modo tale che possa andar bene a jack quindi se poi la dottoressa si piantona e non vuole aiutarci con la contromisura e quant'altro quindi proviamo anche se poi la dottoressa diciamo non va a finire bene in realtà dovrebbe partire anche la serie quindi visto che questa prima parte è breve molto probabilmente farò un video unico vediamo hai ragione dobbiamo tenerci al piano originale che i dati di sofia siano giusti o no non possiamo cambiare in corsa chiaramente la nostra posizione è compromessa organizzate una squadra e scoprite con chi sta lavorando in realtà mi sono già mosso in quel senso l'hanno trovato tra i video di sorveglianza mio dio è lei chi lei martin è una nostra dipendente come diavolo siamo cresciuti troppo non potevi controllare tutti e non c'era un suo profilo almeno finora bet wilder è una delle nostre agenti ho inviato una squadra di sicari ma non riusciremo a ucciderla non ancora come può lavorare con jack come fa a conoscerlo te l'ho detto paul non possiamo fidarci dei nostri chissà che altri c'è dietro scoprilo subito bet wilder era la prima volta che sentivo il suo nome ma era già stata lì nel passato quando era iniziato tutto è stata qui tutto il tempo ha lavorato contro di me dall'interno e non è stata l'unica ormai le cure sono sempre meno efficaci non puoi alterare l'inevitabile il tempo è soltanto un circuito chiuso e qualunque cosa faccia il tempo finisce devo entrare nel laboratorio mi serve una cosa che si trova lì il protocollo arca che cos'è che ti spaventa così tanto martin ti sembro forse così spaventato è il rapporto della dottoressa amara le stasi stanno diventando sempre più frequenti quello cos'è una forma di vita disgregata dal cronon molto ostile è il dottor kim andiamo andiamo no no non farlo non farlo forza indossalo noi andiamo 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 e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il protocollo Arca. È una sorta di rifugio per proteggere alcune personalità chiave della Monarcha fino a quando i tecnici non avranno trovato una soluzione. Personalità chiave significa che io sarei sulla lista, giusto? Non sotto il comando di Paul Serin. Lui non ha mai compreso il valore dei suoi uomini. Ormai è consumato dai suoi ideali e dalle delusioni. Hai un'idea di quale possa essere il concetto più terrificante al mondo? È l'idea di Dio. La semplice idea di un essere così potente. Uno con la facoltà di prendere e donare il controllo su ogni cosa dovrebbe essere temuto, non venerato. Eppure la gente crede in Dio. Esattamente come crede in Paul Serin. Vedi, quello che c'è in Dio che spaventa la gente non è il potere di controllo, ma l'idea che possa perderlo. Paul Serin è uscito di senno, Charlie. Ha scatenato una catastrofe. Ha la possibilità di rimediare, ma non vuole farlo. Ha scelto di far finire tutto. La fine del tempo. E qui entriamo in gioco noi. Non possiamo permetterci di lasciare il controllo nelle mani di un solo uomo. Ci serve un'assicurazione. Che risponde al nome di RC. E la chiave per la nostra sopravvivenza è di restare al sicuro. Ma è impossibile finché l'unico depositario sarà Paul. È chiaro? Una volta ottenuto l'RC, io assumerò il comando e riporterò la Monarch ai fastidi un tempo. Servirà una riorganizzazione, Charlie, un nuovo ordine aziendale. Che ti vedrà mio braccio destro. E sarei sulla lista? Senza alcun dubbio. Significa che devo ritornare alla Monarch. Ma un sistema di quel genere può essere violato soltanto dall'interno. è buono. Ho bloccato gli accessi all'isola, ma la cabina idrica sul lato ovest ha un vecchio tunnel di servizio che passa sotto la baia. Nessuno ne sa niente. Non avrai problemi. Il tempismo è essenziale, Charlie. Farei meglio sbrigarti. Sì. Comandante Davis. Sì, signore. Al laboratorio perimetrale. Dobbiamo procedere. Le stasi sono continue, con una frequenza ancora imprevedibile. Irregolari, ma continui. Servono dati certi. Una volta avviato il protocollo è irreversibile. Signor Serin, per situazioni simili, non esistono certezze. Non abbiamo alcun tipo di esperienza. Quanto manca? Abbiamo eseguito le simulazioni della dottoressa Amaral. Avremo bisogno di una sua conferma, ma... Dimmi soltanto quanto manca. Il campo di Joyce può collassare tra otto ore. Signor Serin, se hai intenzione di procedere, è il momento di prendere una decisione. Ma la decisione è il momento di prendere una decisione. E' il momento di prendere una decisione. No. No. Ehi, amico. Dove stai andando? L'avevi ragione. L'avevi detto. Il tempo finirà. E il protocollo Arca è un luogo. L'hanno costruito per proteggersi dalla frattura. L'unico problema è che hanno una lista e chiunque sia rimasto fuori non ha speranza. Ma se riuscissimo a lasciare l'isola, potrei farci inserire in quella lista. Noi tre... Tutte le vie di fuga sono bloccate. Come pensi di fare? So che c'è un tunnel. D'accordo, ma se non stai dicendo la verità, giuro su Dio che io ti... Un culo! Ne ho abbastanza. Non so perché lo stai facendo, ma nessuno mi obbliga a inserire il tuo cazzo di nome... Cosa gli hai fatto? Non è niente. Ti spiego io perché devi inserirmi in quella lista. A casa ho una moglie incinta. Ed è l'unica cosa di cui mi importi in questo momento. Perciò non provare a ostacolarmi mentre tento di proteggerla. O ti giuro che la prossima volta non riuscirai più a riprendere fiato. Dopodite. Dopodite. Dopoditi. Buonasera, dottoressa Amaral. Mancano cinque minuti, signorecci. Vai. Ora ti libererò, amico mio. Vederti relegato qui è insopportabile. È tempo che tu raggiunga gli altri, che ritorni nell'infinito. Di quanti mesi è tua moglie? Tre mesi. Congratulazioni. Grazie. 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 Cosa succede? Siamo sotto la bagna. Siamo sotto la bagna. Senti! No, no, no! No, no, no! Vediate, state indietro! Anche! Tutto a posto? Sì. Sì, e tu? Sto bene. Tutti a terra! Ora! Siamo della Monarch! Forse non mi sono spiegato! Senti! Ho detto a terra! No, no, no! Sono io che ho chiamato. Lavoro per Edge. Wincott! Sì! E lei chi è? Lei è un'esperta di Cronon. È importante. Dobbiamo riportarla subito alla Monarch. Per favore. Andate fuori dalle palle. Subito! Sì! Fiona! 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 Stammi a sentire! Ehi! Oh! Pezzo di merda! L'hai ucciso! Cazzo! Ehi! Non sapevo che l'avrebbero ammazzato. Cosa avrei dovuto fare? Sbaglio o siete stati voi alla firmi? Qui non si tratta di te, Charlie! Che fai? Rubi una macchina! Sparisci immediatamente! No, hai bisogno di me! Ho già avuto quello che mi serviva. È un vizio che ha preso piede. Ma perché non apri gli occhi? Il mondo sta per finire! Io sto cercando di fare qualcosa! Contiamo tutti su di te. Vaffanculo! Un'infermiera, eh? Ora la vedremo. Burke, povero scemo. Lo sai... Sarà un piacere uccidere tua moglie. Lo sai... ... Il comandante Davis Davis e la sua squadra Erano in gamba I migliori della monarca Paul 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 Le mie cure sono state distrutte Ho paura di sì Lo sai che significa? Tu non lo sai di certo Che sono un uomo morto! Jack Vuole che io mi consumi Lui vuole soltanto vedermi soffrire Fino alla fine Joyce è anche la Wilder La domanda che mi tormenta è Chi li ha portati nel laboratorio di Kim? Lei è tornata Quando tutti la credevano scomparsa Sapeva dove trovare le tue cure Conosceva la complessità della tua malattia E sapeva che non puoi andare avanti senza quel trattamento Ma è lei che ha creato le cure E poi le ha rubate Bisogna che venga trovata il prima possibile E come ti comporterai con lei? Deciderò quando l'avrò di fronte E come ti comporterai con lei? Buonasera. Ehi, amico. È un sollievo vederti qui. Stavo dicendo alla tua ragazza che eravamo tutti preoccupati per te. Emily, dobbiamo andare. Andare? Che fretta c'è. Emily, andiamo. Ehi, amico. Ehi, amico. Emily, dammi le chiavi. Dammi le chiavi. Emily, ascolta, ascolta. Ti prego, ti prego. Questo non sono io. Ho sempre disprezzato tutto questo. Io sono sempre stato male facendo questo. Ma era la sola cosa che sapessi fare. E quando sono tornato non ho trovato nulla. Non c'era niente che potessi fare. La monarca ha visto in me un'occasione e mi ha trovato un incarico. Giuro su Dio che io non sopportavo di rimanere sempre da solo. E così, tutti i martedì e tutti i mercoledì io scendevo lungo la strada perché erano le uniche due sere in cui quella barista, in cui lei non era a scuola. Ogni sera pensavo solo a chiederti di uscire, ma ci ho messo uno stramaredetto anno. Emily, se la monarca, se loro mi hanno dato una struttura, tu mi hai dato uno scopo. L'ho fatto solo per proteggerti. L'ho fatto per proteggere noi. La nostra famiglia. Per proteggere la nostra famiglia. Ma Emily, ora devi ascoltarmi. Qualcosa di terribile sta accadendo. Ti spiegherò tutto per strada. Ora non c'è tempo. Dobbiamo andarcene subito. Ti prego. Lascia solo che io possa. Ti prego, lasciami. Io ti proteggo. Ancora un'ultima volta. Ti prego. Ti prego. Questo sono io. Sono io. Chiaro. Sì, sono io. Ok? Dobbiamo andarcene. Andiamoci subito. Bene. Pronto. Sono Pierce, dal laboratorio perimetrale. Signore, ho delle informazioni su Martinich. Voglio che venga arrestato. Immediatamente.